Paolo Montagnani cosa porta di positivo a casa scrutando adesso il punteggio? Beh intanto portiamo prima del primo punto in classifica in questo campionato portiamo una qualità di gioco sicuramente migliorata anche se come si evince facilmente dal punteggio insomma con alti e bassi niente male Da una parte e dall'altra però? Sì se da parte nostra diciamo sono anche preventivabili da parte di Latina un po' meno ma insomma così è la palla a volo di ora insomma ci sta di darle e ci sta di prenderle Il calendario non vi è stato amico no? Un turno di riposo impegni importanti forse il campionato di Città di Castello comincia da questo punto da oggi da Latina? Beh sì io ai ragazzi ho detto che eravamo entrati nel campionato da una settimana dove in una settimana di campionato abbiamo fatto tre partite è chiaro che oggi abbiamo fatto il primo punto penso che ci darà una buona motivazione a continuare a lavorare duro come stanno lavorando i ragazzi ci ha dato anche certamente degli spunti di riflessione su quello che possiamo fare meglio su quello che dobbiamo ancora migliorare però direi che oggi insomma abbiamo fatto alcuni scampoli di buon gioco grazie